Va a pieno ritmo e con buoni risultati l'operazione Cervo Italico che vede la Calabria tra i protagonisti attraverso la partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Serre. Per illustrare i passi avanti compiuti finora si è svolta una conferenza stampa guidata dal direttore del Parco Francesco Pititto, alla presenza del tenente colonnello Rocco Pelle, comandante del reparto carabinieri della biodiversità di Mongiana, ed il commissario del Parco Regionale delle Serre, Alfonso Grillo. I cervi italici provenienti dal Bosco dell'Amessola sono stati rilasciati da qualche tempo all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre che ha aderito all'operazione Cervo Italico realizzata con il contributo di diversi partner. La missione è quella di salvare dall'estinzione questa sottospecie del tutto unica. L'area del Parco delle Serre si è dimostrata propizia per questo tipo di attività perché è un compendio di ricchezza naturale, storica e antropologica che fa preziosa questa parte verde della Calabria. Il Cervo Italico ormai si sta ambientando nel Parco delle Serre? Sì, e questa è una bella pagina per la Calabria. Il Parco delle Serre che partecipa a questo progetto dell'ISPRA, del WWF e del Ministero dell'Ambiente insieme al Corpo Forestale della Biodiversità per salvare questa specie che è in via d'estinzione. Pensate ci sono soltanto 300 esemplari in tutto il mondo, ma con poca attenzione rispetto a questa specie almeno per quanto riguarda la nostra regione, mentre invece c'è stata un'attenzione molto particolare e molto massiccia da parte invece dei quotidiani internazionali e delle riviste scientifiche che oggi rimettono in risalto il Parco regionale delle Serre. Perché il Parco regionale delle Serre si inserisce in questo progetto che è eseguito anche a livello universitario come ricerca oltre che per ripristinare una razza in estinzione. Sì, non è stato scelto il Parco regionale per caso, il Parco regionale delle Serre è stato scelto dall'ISPRA e da tutto il tavolo di concertazione perché dal punto di vista della biodiversità è un unicum sul territorio nazionale e dava la possibilità di rintegrazione di questa specie molto più di altri. Quindi questo ci deve far sentire orgogliosi perché il Parco regionale delle Serre oggi è l'unico parco nazionale è un unico parco regionale d'Italia che ospita questa specie. Possiamo definire il Parco delle Serre il luogo ideale per il mantenimento di specie che rischiano di estinguersi? A questo punto lo possiamo dire anche perché noi con questo cervitalico speriamo in qualche modo di ripristinare la biodiversità che è stata in questi anni deturpata, negli anni il cervitalico non è alieno rispetto a questo territorio, è esistito nel 1800-1900. Rintegrazione significa ricostituire la biodiversità e ricostituire l'ecosistema in un parco che è diventato oggetto di interesse mondiale. Il ruolo dei carabinieri diventa un ruolo importante in questa operazione sia per la fase di controllo ma anche di incremento. Sì, incremento perché i carabinieri nascono i carabinieri forestali appunto dal Corpo Forestale dello Stato e a sua volta dall'Azienda di Stato Foreste De Maniali che ha conservato questi nuclei di cervo italico in una delle sue riserve, le riserve naturali dello Stato della Mesola e da questo bacino sono nati questi nuovi nuclei qui nel parco delle Serre che stanno permettendo appunto di realizzare una conservazione ex situ appunto della specie e quindi una perseveranza della sua presenza nel territorio poi nazionale. Il lavoro proseguirà visto che l'operazione sta riuscendo? Il lavoro proseguirà, saranno chiaramente portate avanti comunque altri rilasci, ci sarà un'azione di tutela e salvaguardia dall'azione eventuale di bracconaggio e di monitoraggio continuo di questi esemplari che sono monitorati appunto con dei radiocollari che inviano i segnali continui della presenza dei vari esemplari sul territorio e per cui un'azione continua di controllo e di intervento che le nostre strutture sono pronte per mettere in campo.